E hey, il 2020 è stato davvero incredibile, in particolar modo per questo canale. All'inizio avrei voluto anch'io fare un rewind come tutti, magari con delle clip carine e con musica di sottofondo, ma di sicuro da solo non ce l'avrei fatta. Sono quindi qua a ringraziare tutti quelli che hanno reso questo possibile. Sì, 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 sì. Ma dai, ma se avrei la mamma brutta. Ciao ragazzi, ciao a tutti, mi chiamo Ronnie e oggi facciamo merenda. Allora, andiamo a fare la mischietta. Oggi ci vogliamo trovare i bambini e andremo a giocare la perfect ending video ony. Siamo di nuovo, in Rhyme. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato armadio. Lo inizio qua. Ho sbagliato, ho sbagliato, ci voglio parlare. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ho proprio sbagliato, ho dato un po' che tu finisci Chain, ho sbagliato e ci sono false! Weiss. Rhyme in wrongし! Perfetto end E io ancora Se sei arrivato fin qua Grazie Grazie indipendentemente Che tu mi odio meno Grazie per essere qua Vorrei lasciarti una piccola nota Prima che tutto questo finisca Nel 2020 ho conosciuto Un sacco di persone Persone vere Persone che posso chiamare amici Qualcuno certo un po' più stupido Qualcuno ancora più stupido Ma di loro mi fido E sono sicuro che anche per loro è così Questo è penso l'unico motivo Per cui posso ringraziare il 2020 E che dire Statemi bene tutti Ci vediamo nel 2021 Grazie a tutti Grazie a tutti